Eccoci al punto, eccoci qui a Telefriuli con il Sindaco di Udine Pietro Fontanini, benvenuto Sindaco. Buongiorno, buongiorno, saluto a tutti. Bene, allora il Sindaco è sugli scudi sempre in questo periodo, anche perché ha creato qualche polemica per esempio sullo stemma, sul logo, io sono il Friuli Mezzasulli, lui ha detto chiaramente a me non piace e per cui qualcuno ha interpretato questa sua schiettezza diciamo così, con il fatto che lui non vuole più candidarsi, è un metodo come un altro per scantonare, ma mi pare che non sia così, comunque sentiamo cosa ci dice il nostro Sindaco. La Regione ha lanciato questo logo che riguarda tutto il territorio regionale, a me non piace la frase io, io sono Friuli Mezzasuglia, io sono friulano e ho detto forse il Friuli merita più attenzione, merita un messaggio, tra l'altro più facile da comprendere, perché Friuli Mezzasuglia è una frase un po' composta e anche un po' lunga. Tutto qui, non c'è nessuna polemica, la Regione faccia questa pubblicità, però io penso anche di avere il diritto di dire che non mi piace tutto lì. Cioè nessuna controposizione, nessuna altra scena diciamo così, in sostanza. Bene, allora parliamo un po' di Udine, parliamo della questione della raccolta differenziata che ha avuto un buon successo, insomma, perché al di là delle polemiche mi pare che Udine ha avuto dei dati incontrovertibili. Sì, molto buoni i risultati, ma anche direi i risultati della società che gestisce la raccolta, che è la Nette, perché abbiamo appena approvato il bilancio con un utile di 1.166.000 euro, quindi un ottimo risultato anche sotto l'aspetto economico, ma quello che è importante è che siamo fortemente indirizzati verso una raccolta differenziata spinta e ci sono sempre più comuni che aderiscono a questo modello. Anche Pordenone ha scelto questa strada, io l'ho fatto ormai tre anni fa, creando anche qualche problema, perché comprendo che quando si cambia l'abitudine, quindi la metodologia della separazione dei rifiuti che deve essere fatta in casa, perché solo così si riescono a recuperare i cosiddetti rifiuti, nel senso che possono questi materiali ritornare in circolo e quindi ritornare all'interno del sistema produttivo. I risultati sono positivi perché siamo arrivati al 75%, l'obiettivo è l'80%, poi stiamo realizzando questo biodigestore per creare il metano, il biometano a Udine, anche questa è in linea con quelli che sono tra l'altro i segnali che stanno arrivando sia dal governo centrale che anche dall'Europa, di creare nuove fonti energetiche alternative, biocompatibili, quindi creare metano dai rifiuti è un'altra forte risorsa e questo impianto verrà realizzato adesso fra poco tempo, perché i lavori stanno andando avanti e quindi sono soddisfatto di questo, perché ripeto, siamo in sintonia con tutti i paesi più progrediti, siamo in sintonia con chi crede nell'ambiente e chi vuole tutelare in pratica un ambiente che sta soffrendo, quindi dobbiamo dare tutti un contributo anche se in alcuni momenti magari è un po' impegnativo. Ecco parlavo della NET e senza il manager mi parla NET, hanno suddiviso di nuovo. Manca il direttore però c'è una struttura molto forte che sta gestendo molto bene e questo lo dicono i 57 comuni che fanno parte della NET sta gestendo bene la raccolta e sono pronti a rispondere a tutti i problemi perché sappiamo che le questioni non sono sempre facili, c'è gente che porta i rifiuti da un comune all'altro, poi ci sono i maleducati che lasciano i rifiuti lungo i territori, quindi sono tutti interventi che vanno fatti e che bisogna operare per migliorare ripeto l'ambiente. Ecco poi Udila ben 19 cantieri, ho girato un po', ho visto che insomma sono tutti in avanzato progettazione, cioè in esecuzione. Sì, qui siamo abbastanza fortunati perché per ora non abbiamo aziende che stanno dicendo che non ci stanno più dentro il quadro economico perché sappiamo che i materiali sono aumentati moltissimo, qualcuno ha difficoltà anche reperirli, però per adesso tutti stanno lavorando, abbiamo un grosso cantiere nell'ex caserma Osopo dove stiamo realizzando una grande palestra anche per il patinaggio, stiamo realizzando una palestra per in pratica la salita artificiale, l'alpinismo artificiale nella nostra città e poi housing sociali, queste sono altre strutture e poi tante scuole, tante scuole che vengono adeguate alle norme antisismiche perché ricordo sempre che purtroppo il Friuli e anche Udine è una zona di terremoti e quindi dobbiamo sempre tutelare soprattutto i più giovani, in questo caso gli allunni che frequentano le scuole affinché vivano all'interno di edifici sicuri. E poi le strade, sono partiti i lavori in Viale Venezia per realizzare due nuove rotonde che sostituiscono due semafori, abbiamo già realizzato una prima rotonda, vediamo che sta funzionando perché il traffico è più fluido e anche più sicuro e quindi questa è la linea che stiamo seguendo. Poi c'è la salita al castello che tutti stanno aspettando con grande curiosità. Sì, la salita al castello con l'assensore da Piazza Primo Maggio, purtroppo siamo un po' in ritardo perché ci sono i problemi archeologici, la sovrintendenza ci ha chiesto di fare più volte dei sondaggi, sono stati trovati dei reperti però non di grande importanza, adesso dovremo fare ulteriori sondaggi per poi spero arrivare a poter fare la gara da palto per poter partire con questo cantiere che è importante perché molte persone di una certa età denunciano la difficoltà a salire a piedi su in castello, quindi se realizziamo un ascensore che proprio da Piazza Primo Maggio dove c'è un grande parcheggio la gente possa con facilità prendere questo ascensore e salire sopra per guardare un panorama unico, si vedono le nostre montagne, la città, la pianura e poi visitare anche lo stesso Castello di Udine con i suoi musei, quindi è un luogo molto importante e dobbiamo realizzare quest'opera e purtroppo siamo un po' irritati. Incentivante anche per il turismo insomma, è una cosa così comoda. Anche perché i pullman arrivano proprio in Piazza Primo Maggio, parcheggiano lì e quindi i turisti sarebbero subito la prima tappa per guardare la città dall'alto e vedere un panorama unico, potrebbero essere proprio l'assensore. Senta, i concorsi a Udine mi pare che vengono un po' snobbati, cioè la gente non vuole partecipare ai concorsi perché mi pare un po' dappertutto questo, non è solo Udine, l'offerta c'è in questo momento. È un problema generale, quindi sono cambiati i tempi, adesso c'è l'offerta un po' dappertutto dall'industria privata ma anche dagli enti pubblici, noi stiamo bandendo concorsi in continuazione perché abbiamo bisogno di personale, in pratica non è che aumentiamo i dipendenti pubblici, stiamo sostituendo le persone che sono andate o in pensione o hanno fatto dei concorsi e sono andate a lavorare in regione. Purtroppo nella nostra regione esiste il comparto unico però solo come dicitura perché in realtà non è unico, i dipendenti regionali prendono la 14esima, hanno 14 mensilità rispetto ai dipendenti dei comuni che si fermano alla 13esima mensilità. Questa purtroppo è una differenza che provoca un'emigrazione dei comuni verso la regione. Bisognerebbe equiparare le cose, dare la 14esima anche ai dipendenti comunali. Io ho sollevato questa questione però ancora non ho ricevuto delle risposte concrete e quindi abbiamo questa difficoltà a reperire personale. Soffre Udine ma penso che soffrono molto di più i comuni piccoli dove purtroppo la mancanza di personale rischia di non permettere ai comuni di dare poi servizi, assicurare i servizi ai cittadini e questa è una cosa pericolosa che va un po' a discapito della funzionalità del comune stesso. Il comune che nell'ambito della cultura ha avuto dei successi strapitosi, non mi pare Sindaco. Abbiamo chiuso una mostra, questa Forma dell'Infinito che ha avuto 57 mila presenze. È un record per la città di Udine, nessuno aveva mai realizzato una mostra così importante, ecco perché abbiamo deciso di replicarla. Quindi l'inizio del prossimo anno ci sarà un'ulteriore esposizione di livello internazionale che attrarrà tantissime persone, turisti appassionati d'arte, stiamo parlando d'arte moderna e quindi diamo un biglietto da visita in più per la città di Udine che è attrattiva anche sotto altri aspetti, il discorso dei ristoranti, dell'astronomia, le piazze e poi tante manifestazioni culturali. Abbiamo appena concluso la notte dei lettori, tre giorni molto importanti con tanti scrittori, con dibattiti che hanno visto animare molto la città. Adesso inizia Udine estate con tanti concerti che si terranno su nella piazzale del Castello in particolare, ma anche in altre parti della città. E poi a settembre arriva Friuli Docche, quindi abbiamo un programma abbastanza intenso anche in questo periodo estivo. Ecco, poi quando uno arriva davanti a Piazza del Lionello dice che la Venezia è su terraferma in sostanza, no? Qui qualcuno, qualche turista... Ci sono moltissimi turisti soprattutto che stanno arrivando in bicicletta e questa è una nuova metodologia di passare le vacanze, soprattutto sono tedeschi, persone pensionati di solito con queste biciclette assistite, quindi biciclette elettriche, che partono da Salisburgo, partono da Graz, arrivano giù, fanno questa bellissima pista ciclabile che è Alpe-Adria, attraverso le nostre montagne, si fermano a Udine per visitare i monumenti e poi ripartono per arrivare al mare, a Grado, al mare Adriatico, vedere in pratica in un paio di giorni le montagne, le colline, una città e anche il bellissimo mare Adriatico. Ecco, qualcuno dice che Fontanini fa manifestazioni troppo Friuli, masse Friuli. Cosa dice Fontanini? Fontanini dice che forse faccio poco Friuli perché io penso che dobbiamo qualificare quelle che sono le nostre specificità. In un mondo sempre più globalizzato, dove ci confondiamo, bisogna ogni tanto alzare le proprie bandierine, cioè dire qua è il Friuli, qua abbiamo prodotti tipici, particolari, perché il turista, la persona che arriva da lontano, da altre regioni, è incuriosita dalle specificità, dalle cose che un determinato luogo offre. Quindi i nostri monumenti sono nostri, di Udine, come altri comuni hanno i loro. Così la lingua, io dico che abbiamo una lingua particolare del Friulano e poi i prodotti tipici del nostro territorio, dall'enogastronomia anche poi a un certo vestiario, a certi prodotti. Un ventaglio di eccellenza, insomma. Certo, e quindi dobbiamo farle conoscere ed essere orgogliosi di queste cose, perché solo così riusciamo a qualificare la nostra presenza ed essere anche protagonisti, casa nostra soprattutto, di quello che noi siamo. Ecco, senta, in ultima analisi, perché ha dato una bellissima prospettiva, ma l'affluenza ultimamente dell'agente alle urne ha creato qualche allarme, no? E poi anche il suo partito mi pare che ha avuto una frenata importante. Insomma, una piccola frenata, perché ha tenuto, io ho visto anche i comuni, medi e piccoli, dove la Lega ha mantenuto un po' la sua presenza. C'è una certa disaffezione, questo è vero, ed è preoccupante, perché la gente pensa che non sia importante andare a votare, scegliere i propri amministratori, queste sono cose fondamentali per la democrazia. Non vorrei che arrivassimo a una situazione in cui la gente non va più a votare, non si sente più rappresentata e soprattutto non vuole cercare i propri rappresentanti, perché questo apre uno scenario pericolosissimo che può portare a situazioni molto, molto pericolose. Quindi bisogna riprendere un dialogo con i cittadini, cercare con loro di confrontarsi e invogliarli anche a partecipare di più, perché vedo che non solo nella politica c'è disaffezione, ma anche nelle associazioni un po', no? I giovani sono molto distratti, dovrebbero cercare di essere un po' più attenti a quelle realtà storiche che sono presenti nel nostro territorio, avere più attenzione, perché è la nostra storia e sono le nostre istituzioni, quindi bisogna avere nei confronti di queste realtà più passione e più attenzione. Ecco, abbiamo questo appello accorato anche di Pietro Fontanini, sindaco di Udl, che ringrazio per la sua partecipazione, io chiudo la puntata, che mi pare che è stata esaustiva, quindi alla prossima! Ciao!